In questo video Mario Nappi, straordinario pianista italiano e ospite speciale dell'Accademia Dexibel, condivide la sua ispirazione musicale suonando sul suo S9 con il suono puro del Japan Grand Platinum. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!